Salve a tutti, sono Alex, il vi ondo, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui in un nuovo video perché oggi c'è la partita Benevento-Perugia. Ecco qua, allora, oggi andremo allo stadio del Benevento dopo veramente tanto tempo e ci scontreremo contro il Perugia che è veramente una grande squadra. Il campionato non sta andando molto bene, infatti su tre partite un punto abbiamo fatto e quindi è veramente male. Speriamo oggi facciamo un bel risultato anche se il Perugia è una bella squadra quindi secondo me è un piccolo pronostico, un pareggio perché ragazzi il Perugia è veramente forte. La scorsa partita contro il Perugia è stata di due anni fa, è stata la semifinale dei playoff e quindi dopo due anni ci scontriamo. Mi raccomando, pollicioni in su, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, attivate la campanellina e niente ragazzi, ci vediamo allo stadio. Forza Benevento, sempre. Ciao! Stiamo salendo ragazzi, eccoci qua dopo tanto tempo. Stanno entrando le squadre in campo? Un dici, undici, undici errori. Mol amico, undici. Ecco ragazzi, vale al centro. È iniziato la partita. Benevento Peruccia Speriamo Un bel risultato Forza estregale Forza estregale Forza estregale E' felice Stiamo facendo un bel risultato Diciamo Attenzione Sì C'è te che lotta Oh 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 Noi vogliamo C'è te che lotta Oh 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 Noi vogliamo C'è te che lotta Oh 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 Mamma mia! Un gol andrà e non ti lascerò mai! E la mia vita è sempre tanto a te! Attenzione, attenzione! No! Un gol andrà e non ti lascerò mai! Un gol andrà e non ti lascerò mai! Un gol andrà e non ti lascerò mai! E la mia vita è sempre tanto a te! Gol Perugia! 1 a 1 Verso la fine c'è! 34 E' finito il primo tempo! Ecco qua! 1 a 1 E' finito il primo tempo 1 a 1 Allora stavamo giocando bene Poi non si è capito più niente Gol del Benevento Coda Grandissimo gol Stavamo giocando bene Poi arriva il gol del Perugia E' un bellissimo gol E niente cosa dire Poche azioni Importanti E niente ragazzi ci vediamo al secondo tempo Perchè veramente non ho nulla da dire Ok oggi siamo con Andrea Pietro Allora ciao ragazzi Allora come sta andando la partita? Molto bene Bene Solo che nel Cioè Nell'ultimo quattro d'ora abbiamo preso il gol E noi dobbiamo cercare di non farne un altro E qual è il vostro giocatore preferito del Benevento? A me Viona E secondo voi il più forte del Benevento? Viona Coda Sempre forza Benevento Sono rientrate le squadre in campo E ora c'è il secondo tempo di Benevento Perugia E' iniziato il secondo tempo di Benevento Perugia 1 a 1 Ci sorti Ci siamo Attenzione! Ancora uno a uno! Ragazzi ci siamo già di un collo, mamma mia! Che non morirà, di padre e figlio si tramanderà E sui gradoni tutto si escerà Con voce, stile e mentalità Benevento Agli occhio appartengo In ogni stadio la difendo Tra le rivalità E passione che non morirà Di padre e figlio si tramanderà E sui gradoni i ludici c'escerà Con voce, stile e mentalità Eeeh Lo, lo, lo… Lo, 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 lo Lo, 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 lo… Eeeeh Guarda. 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 Se tutto il nostro amore, sognò per sempre l'oltreo, Tragli filegne e pressione, anche se me sei guai, Ma di me li lasceremo, ma di me li! No, 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 no. Nel evento stavo qui. Ok ragazzi è finita la partita 2 a 1 per il Benevento E' stata veramente una bellissima partita Finalmente torniamo a vincere Speriamo che le prossime partite vinceremo Ora mi sembra dobbiamo andare a Palermo Non lo so forse faremo la trasferta Ma non credo Mi farò sapere Comunque finita la partita 2 a 1 Cosa dire Partita un po' così Però dai alla fine ce la meritavamo E Perugia ha giocato bene Devo dire la verità E ok Ragazzi questo video finisce qua Vi ricordo pollice in su Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Alex il biondo Ok devo andare Alla prossima volta con Alex il biondo Ciao Ciao